Buonasera e ben ritrovati con l'informazione tremila atleti in rappresentanza di quaranta nazioni per dieci giorni di competizioni sono questi i numeri dei mondiali eh master di orienteering che si disputeranno in Puglia da venerdì otto a sabato sedici luglio e sarà le gare di questa disciplina sportiva all'aperto dove gli atleti sono chiamati a completare nel minor tempo possibile eh un percorso con il solo utilizzo di una bussola e di una cartina topografica. La presentazione è venuta questa mattina a Bari. Sentiamo. Riteniamo che il connubio fra turismo e sport sia assolutamente forte e lo dimostra questa iniziativa ma lo dimostra il fatto che la sostenibilità legata al turismo, legata al Gargano in questo caso possa essere messa ancora di più in risalto con questa iniziativa. Siamo alla ricerca di prodotti turistici sempre alternativi e stiamo sviluppando il tema della sostenibilità e crediamo che questo progetto vada in quel solco e restituisca una Puglia con un'offerta turistica sempre più più varia, sostenibile, capace di attrarre flussi nazionali ma ormai soprattutto internazionali. Assolutamente il mare è la nostra più grande bellezza ma stiamo lavorando assiduamente affinché il prodotto mare possa essere completato con una serie di altri prodotti. La seconda motivazione di viaggio in Puglia è rappresentata dall'Eno Gastronomia, lo stesso possiamo dire dei prodotti legati alla sostenibilità, penso ai cammini, le ciclovie, tutto quello che si può sviluppare intorno anche ai treni storici. Penso alle città d'arte, penso alla programmazione culturale. I mondiali di Orentini che si terranno quest'anno in Puglia dall'8 al 16 sul Gargano saranno un ulteriore evento sportivo che ribalterà il nostro territorio in tutto il mondo. Avremo poi un ritorno concreto perché oltre ai 3.000 atleti che affolleranno il Gargano in questi giorni ci saranno gli accompagnatori e vi sarà quindi un circuito di circa 5.000 persone al giorno che vivranno il nostro territorio in quei giorni e che quindi conosceranno e apprezzeranno tutto il territorio del Gargano. Beh è una ricaduta importante, gli eventi sportivi abbiamo visto i campionati italiani di ciclismo, sosterremo Red Bull, abbiamo visto tante iniziative culturali e turistiche, insomma credo che lo sport si inserisca benissimo in un contesto di promozione del brand Puglia. Sempre in primo piano la politica, secondo voci e indiscrezioni peraltro che non sono state neanche smentite negli ambienti politici regionali, il vicepresidente della regione Raffaele Piemontese, assessore al bilancio, potrebbe essere il futuro segretario regionale del PD. Pare che l'intesa sia stata in qualche modo raggiunta, ascoltiamo il servizio. La notizia non è stata confermata in via ufficiale ma il se ne sta discutendo dei consiglieri regionali Ruggero Menea e Fabiano Amati al quotidiano L'Attacco costituenti la frangia di opposizione del partito democratico pugliese, ostile ad una riconferma del segretario regionale del PD Marco Lacarra, rende realistica la nomina ai vertici PD dell'attuale assessore al bilancio, nonché vicepresidente della regione Raffaele Piemontese. Il tutto accadrà, secondo la strategia definita a tavolino tra Bari e Roma, nella fase congressuale che il commissario ad acta Francesco Boccia intende portare a compimento prima delle politiche della prossima primavera, come peraltro confermato nei giorni scorsi dallo stesso segretario nazionale Enrico Letta, parlando a proposito della situazione del partito in Sardegna e in Puglia. Se il nome di Raffaele Piemontese dovesse trovare consenso unanime, come pare sia già avvenuto, non sarà necessario neanche il ricorso alle primarie aperte. Ipotesi paventata ma che lo stesso Lacarra all'indomani dell'analisi del voto alle amministrative del risultato conseguito dal PD in Puglia non aveva escluso in mancanza di una linea congressuale ben definita. Raffaele Piemontese può rappresentare, secondo molti, il punto di raccordo tra le diverse anime interne del Partito Democratico per alcune ragioni essenziali. Tra queste la spiccata fedeltà al governatore Michele Emiliano, vi è da aggiungere che lo stesso Piemontese, nel cui DNA c'è un mix di democrazia cristiana e partito comunista, può essere il testitore dei rapporti interni al PD, le cui relazioni interne si sono inasprite nei mesi scorsi, con la sostanziale azione di sfiducia messa in atto contro Lacarra. Non ultimo il pessimo risultato ottenuto in alcuni comuni come Barletta. L'intesa su Piemontese, il segretario regionale PD, sarebbe stata raggiunta, secondo alcune fonti, in una sorta di triangolazione tra regionali e nazionali. E lo stesso commissario, Francesco Boccia, con il benestare di Marco Lacarra, il quale, secondo una logica di ripartizione delle poltrone alle prossime politiche, strategia direttamente connessa alla nomina per acclamazione del nuovo segretario regionale, potrebbe essere la testa di serie, che guiderà il listino per il Parlamento. All'Anfiteatro di Lucera è stata presentata la terza edizione di Estate Muse Stelle, rassegna di spettacoli allestita nel sito romano dal Teatro Pubblico Pugliese, nel cast Elio Germano, Toni Servillo, Sonia Bergamasco, Nicola Piovani e Daria Paoletta. Abbiamo sentito il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe Durso, e il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, intervistati da Riccardo Zingaro. Il Teatro Pubblico Pugliese ha tantissime residenze estive, insomma, è da Otranto a Monte Sant'Ancio, all'Isola dei Tremiti, quindi non è, è la residenza estiva dei lucerini, ma non solo dei lucerini, dei foggiani, noi ci auguriamo di un territorio sempre più vasto, è una bella realtà, oramai siamo alla terza edizione e gli auspici di tutti è che possa continuare, sempre con maggiore impegno da parte degli amministratori locali, ma anche della regione che fa tanto, devo dire, Teatro Pubblico Pugliese su queste cose ci ha scommesso e devo dire che finora i risultati sono incoraggianti e gratificanti anche. Questo è il terzo anno di Estate Musee Stelle in collaborazione con la regione Puglia, con Teatro Pubblico Pugliese e con degli straordinari partner che hanno appoggiato sin dal primo giorno la stagione Estate Musee Stelle. Sarà un punto di riferimento, nuovamente un punto di riferimento per la Puglia, il nostro anfiteatro Agusteo che ospiterà questa rassegna straordinaria. Sempre dall'alto valore simbolico, la tradizionale cerimonia del passaggio del martello all'interno del Rotary Club di San Severo, il neopresidente del Sodalizio e la professoressa Linda Lenza subentrata a Vincenzo Manuppelli. La cerimonia si è svolta nella masseria Calderoso, costruita alla fine del 1700 e poi donata all'opera di Padre Pio nel 55 dalla baronessa napoletana Gisella Coletta. Sentiamo le interviste realizzate da Beniamino Pascale. Sicuramente il significato principale di essere rotariano si può sintetizzare nel servire al di sopra del proprio interesse personale, cioè mettersi a disposizione del territorio, della società, delle persone che vogliono fare bene insieme a te, che ti aiutano a operare in questo ambito, al di sopra di ogni interesse, con lo scopo proprio di fare del bene per la società e per il proprio territorio. Penso che questo sia il concetto fondamentale. Essere rotariano oggi significa creare opportunità per il nostro territorio, perché creare progetti che possono andare a supporto degli enti, delle altre associazioni e anche degli enti locali, è una cosa che può far del bene. Quindi il Rotary non è più dedito ai progetti internazionali, ma soprattutto al territorio. Sarà un anno nell'insegna della continuità, sicuramente, la cardoprotezione del territorio e il service dedicato ai bambini dell'Asia dell'Est. Stiamo in continuità, abbiamo un progetto di borse di studio che servono a finanziare delle dottoresse pediatre che vanno nel Vietnam. Un anno sicuramente denso, importante, difficile, ma sicuramente gratificante, perché mi ha permesso di crescere come rotariano, di conoscere molti amici rotariani e di acquisire ancora di più, ove ci fosse bisogno, esperienza rotariana. È tutto con l'informazione, il prossimo appuntamento ve lo ricordo domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.